in tanti mi dicono ho fatto stampare una fotografia e è venuta chiara scura gialla azzurra quello che sia eppure ho usato i profili icc i profili icc sono uno strumento fondamentale nella gestione del colore e sono anche semplicissimi da implementare nel workflow di post produzione fotografica bisogna però seguire dei passi precisi il primo dei quali è la calibrazione del monitor ciao sono mariano di videozappo.com mi occupo di fotografia digitale sin dal suo avvento e in tutti questi anni una cosa ho capito è meglio avere un monitor da 100 euro ben calibrato di uno da 1000 euro calibrato diciamo a occhio dammi un attimo e capirai che non sto esagerando prima voglio ringraziare sal digital che mi ha aiutato a realizzare questo video e tra poco ti faccio anche vedere come prima di tutto che cosa vuol dire gestione del colore in un mondo ideale noi vorremmo che un determinato colore quello della mia maglietta per esempio linkata in descrizione rimanga sempre lo stesso cioè è di questo colore nella macchina verrà fuori sempre di questo colore la guardo a monitor avrà ancora lo stesso colore mando il video su youtube lo guardi sul tuo telefono e ancora abbia lo stesso colore questo processo è possibile se noi riferiamo ciascuno dei dispositivi che stiamo utilizzando a qualche cosa di noto di conosciuto questo qualcosa di noto è il cosiddetto colore assoluto senza scendere troppo nei dettagli già dal nome capisci che si tratta di un qualcosa che si riferisce in maniera oggettiva al colore di quello che stiamo analizzando se vuoi approfondire qualcuno dei temi che andremo a trattare fammelo sapere nei commenti di questo video il problema è che ogni dispositivo vede i colori diciamo a modo suo dunque la macchina fotografica vedrà un colore ma non è detto che sia lo stesso colore che esce da questo monitor per evitare questo problema si utilizza la gestione del colore appunto e come si fa bisogna profilare il dispositivo che cosa vuol dire do in pasto a quel dispositivo un colore noto e poi vado a misurare quello che esce fuori si misura con delle apposite sonde nel caso del monitor o delle stampanti con dei color checker nel caso dei dispositivi di ripresa ma in ogni caso sto utilizzando un riferimento oggettivo per cui so esattamente quale colore aspettarmi lo misuro e crea una tabella che spieghi al dispositivo come deve comportarsi in maniera tale che ci sia una distanza più piccola possibile tra il colore reale e quello riprodotto questo processo si chiama profilazione e il file con queste istruzioni si chiama profilo icc tutto ciò funzionerebbe splendidamente se tutti i dispositivi coinvolti in questa catena fossero tutti quanti in grado di riprodurre tutti i colori esistenti nella realtà non è così e ogni dispositivo è in grado di riprodurre una quantità limitata finita di colori a questa quantità di colori si dà il nome di gamut che è l'insieme di quello che quel dispositivo è in grado di rappresentare ci sono poi dei gamut che sono degli standard degli insiemi preconfigurati di una certa quantità di colori con determinate caratteristiche a questi gamut tra virgolette speciali si dà il nome di spazio colore srgb profoto rgb adobe rgb rec 709 sono tutti nomi di spazi colore standard che cosa succede quando un colore che magari può essere riprodotto correttamente senza alcun problema dal mio monitor non può essere riprodotto dalla stampante ecco lì entra in gioco l'argomento di oggi cioè il soft proofing e i profili icc utilizzati per simulare la stampa perché noi abbiamo bisogno di vedere in anticipo quale sarà il risultato delle nostre fotografie stampate se qui ci fossero dei colori che il dispositivo di stampa non è in grado di gestire io voglio saperlo già quando sto guardando la foto nel software di post produzione perché magari posso fare qualche cosa per renderla più vicina ai miei gusti il problema è che se io interrompo la gestione del colore in qualunque punto per esempio il mio monitor non è calibrato io non ho alcuna certezza che quello che vado a stampare qui sopra a questo album è esattamente quello che ho visto a monitor perché il monitor non è riferito come lo è invece la stampante di sal digital utilizzata per questo album ad un colore assoluto dunque sto facendo una prova che non dice assolutamente nulla il monitor deve essere calibrato pretendere di utilizzare un monitor non calibrato per fare la simulazione di quello che verrà stampato è come misurare un appartamento a passi e poi pretendere che la pianta che andiamo a disegnare sia precisa al centimetro anche le calibrazioni standard quelle che puoi scaricare da internet o le calibrazioni fatte in fabbrica sul monitor sono abbastanza vicine all'inutile ovvero se tu hai un ambiente perfettamente controllato conforme alle specifiche su cui è fatta quella calibrazione allora tutto potrebbe funzionare ma se tu come nel mio caso hai una finestra qui davanti un'altra finestra lì dietro delle volte lavori di sera con la luce delle lampade ora sto lavorando con un faro bello potente per fare queste riprese tutte queste condizioni ambientali influenzano la mia percezione di quello che il monitor sta mostrando dunque la calibrazione del monitor va eseguita nelle effettive condizioni di utilizzo per effettuare la calibrazione si utilizza un'apposita sonda io ho questa qua di data color si chiama spider x una sonda professionale come questa qua in offerta rischi di pagarla neanche un centinaio di euro iscriviti al mio canale telegram linkato in descrizione perché segnalo prontamente questo genere di offerte una sonda di calibrazione è un oggetto che a mio avviso bisogna possedere se lavori con la fotografia o con il video making va bene qualunque sonda non c'è bisogno di un prodotto professionale ma in ogni caso stiamo parlando di relativamente pochi soldi ti faccio vedere come si usa questo è il software si chiama spider x elite ne esistono varie versioni e se non è una sonda data color avrai proprio un altro software l'importante è che i concetti sono sostanzialmente questi magari hai qualche opzione in meno tra cui scegliere la procedura è completamente guidata noi vogliamo calibrare degli schermi dunque schiacciamo avanti se non vedi questa guida la puoi attivare da questo pulsante qua ti viene spiegato come eseguire la preparazione nella sostanza devi essere nelle stesse condizioni in cui esegui la post produzione e importante il monitor deve essere acceso da almeno qualche minuto loro dicono una mezz'oretta questo dato è piuttosto importante trovi la specifica nel manuale del tuo monitor se sei indeciso leggi la guida perché ti viene spiegato come venire a capo di questa informazione andiamo ancora avanti vogliamo un processo completamente guidato dunque andiamo avanti e qui c'è una cosa che ti invito a controllare nelle impostazioni avanzate abbiamo questa opzione che ti permette se disattivata ovviamente di essere del tutto ignorata se la imposti su attivata il software quando la sonda è collegata semplicemente ti avvertirà se le condizioni di illuminazione della stanza sono cambiate troppo rispetto a quando hai fatto la calibrazione ma la mia preferita è questa qui sopra che invece crea una serie di profili di calibrazione e li carica in base alle condizioni di illuminazione di quel momento e questo in un posto dove la luce cambia abbastanza spesso è molto molto pratico l'importante è che la sonda si trovi vicino al monitor e che riceva la stessa illuminazione che arriva sullo schermo dunque andiamo avanti impostiamo dal menu del monitor i parametri che ci vengono indicati in questa schermata nel mio caso siamo già a posto schiacciamo avanti ed ora dobbiamo collocare la nostra sonda nella posizione indicata a questa maniera qui e schiacciamo avanti ti consiglio di inclinare il monitor un po in avanti in maniera tale che la sonda aderisca perfettamente allo schermo ma che soprattutto non ci siano infiltrazioni di luce dai lati che potrebbero falsare il risultato ecco qua possiamo schiacciare fine e rimuovere la nostra sonda che possiamo di nuovo posizionare dove andrebbe tenuta dunque qui accanto possiamo verificare come è andata con questa schermata prima dopo questo è senza la calibrazione e questa è con la calibrazione la differenza può sembrarti minima e in effetti nel mio caso lo è semplicemente perché le regolazioni hardware di questo monitor quelle fatte a questo menu sono comunque molto accurate e di conseguenza la calibrazione si allontana poco da quello che avevo già fatto a occhio regolando i vari parametri ma bando alle ciance e adesso salva la configurazione che ha appena eseguito e vediamo come si utilizza tutto questo lavoro per creare questo album qua che è un prodotto di sal digital ti lascio il link in descrizione è un tipo di album che a me piace tantissimo è stampato su carta fotografica vera questo non lo specifico è quella lucida le doppie pagine sono perfette insomma ci fai generalmente un figurone costa qualcosa in più di altri prodotti però la qualità è completamente a un altro livello se ti iscrivi alla newsletter di sal oltretutto ricevi sconti piuttosto consistenti in maniera abbastanza costante ma come facciamo a prevedere l'aspetto che avranno le nostre immagini una volta stampate qui sotto la prima cosa che devo fare è andare su questa pagina del sito sal che ti lascio linkata in descrizione e scaricarti il profilo corrispondente che nel nostro caso è questo qua puoi anche scegliere di scaricare tutti i profili in un unico file zip il file è questo qui installarlo è molto semplice basta un doppio clic l'abbiamo già installato ora per utilizzarlo hai bisogno di un software che supporti il soft proofing il profilo che abbiamo scaricato è rgb questo vuol dire che puoi utilizzare lightroom con i profili cm yk hai bisogno di photoshop magari lo vediamo tra un istante eccoci in lightroom con una delle foto che trovi sull'album si tratta esattamente di questa qua stiamo parlando di una foto che qualche problema potrebbe crearcelo perché vedi c'è una gamma dinamica abbastanza estesa qui dietro c'è del bianco illuminato qua c'è un viso che invece stava in ombra per attivare il soft proofing cioè per vedere l'anteprima di quello che andremo a fare devo azionare questa casella vedi che qua lightroom ci scrive che stiamo in soft proofing e io qui ho già selezionato ma poi selezionarli altri il profilo giusto ovvero quello del fotolibro di sal adesso possiamo effettivamente confrontare queste due immagini e non è che io abbia questa grande sorpresa quello che vedo a monitor è estremamente simile a quello che mi trovo stampato quando vedo questa foto non dico che cosa è successo di così ok è uguale i colori sono gli stessi le dominanti sono le stesse la leggibilità di queste ombre è del tutto sovrapponibile così come se vai a guardare le alte luci per esempio qua sui fiori in testa alla bambina sono assolutamente gli stessi e vorrei farti notare una cosa che se io non avessi calibrato il monitor per esempio che ne so metto questa impostazione qua guarda lo stesso confronto questo bianco con questo bianco c'entra poco questa parte qui sopra qui è molto più chiara le ombre qua le vedo appena appena mi verrebbe da schiarire tantissimo questa immagine se io volessi intervenire qui per renderla più leggibile andrei di sicuro ad aprire le ombre qui lightroom mi avverte che sono in modalità di soft proofing e dunque sarebbe opportuno lavorare su una copia virtuale magari mi verrebbe anche da aumentare ancora un po il contrasto forse ancora un po di più e magari di diminuire un po di meno queste altre luci vedi iniziano a corrispondere ma se la foto che ti ho mostrato prima stampata mi dava questo risultato quando andrò a stampare questa le cose andranno male e magari scriverò assal dicendo che le foto non sono venute bene la realtà è che io sto lavorando con un monitor non calibrato sal ha correttamente calibrato la sua stampante sto utilizzando il suo profilo sto vedendo una cosa che non c'entra nulla con la realtà e di conseguenza la mia stampa verrà male ma il motivo è che ho impostato male il mio monitor e te lo faccio vedere perché sei ora rimposto correttamente il monitor nel suo spazio colore corretto guarda un po la foto non c'entra nulla qui le ombre sono molto più aperte ma perché le ho aperte il contrasto è effettivamente esagerato e questa parte qui delle alte luci potrebbe non piacermi magari finirei col perdere qualche dettaglio perché perché adesso sto guardando quello che effettivamente verrebbe fuori e dunque la mia foto corretta sarebbe questa qua ora corrisponde a quello che ho mandato in stampa e i risultati sono corretti ti faccio vedere in photoshop da visualizza andiamo su proof setup non so come sia in italiano e personale immagino e qui ho caricato il profilo di sal per le tele che vedi qui alle mie spalle te ne ho parlato in un video sull'allestimento di questo studio però lascio linkato in descrizione e nella card queste tele hanno caratteristiche piuttosto interessanti ma non dobbiamo parlarne sono comunque tele fotografiche e di conseguenza non puoi aspettarti lo stesso livello di riproduzione ad esempio dei neri che potresti avere con un oggetto come un fotolibro stampato su carta fotografica e infatti nell'istante in cui attivo il preview dunque posso vedere quello che viene fuori applicando il mio profilo volendo posso anche schiacciare ok ti rendi conto che quello che sto vedendo non è tanto differente da quello che vedi al muro proprio perché sto simulando la riproduzione di questi colori purtroppo nel caso dei profili cm yk come quelli per questo tipo di tele c'è bisogno di photoshop lightroom ha sospeso questa caratteristica ma era totalmente inaffidabile motivo per cui anziché sistemarla dubbi ha pensato bene di eliminarla io posso anche lavorare su questa immagine per esempio provare a cambiare il punto di nero ma guarda che cosa succede sto perdendo dettaglio nelle ombre ma il nero in realtà rimane quello perché succede questo perché sono in soft proof il mio photoshop sta riproducendo il livello del nero che poi troverò stampato sulla tela fotografica e posso vederlo già da questa fase nel momento in cui guardo l'immagine già so che cosa appenderò al muro e questo su un oggetto impegnativo come una stampa 60x80 credo che faccia tutta la differenza del mondo io ringrazio sal digital soprattutto per i profili icc che mette a disposizione una cosa molto importante è che quando poi vai ad esportare le immagini per stamparle le devi esportare in srgb con un profilo colore standard non devi incorporare il profilo icc perché altrimenti fai un guaio irrimediabile ora non dovrebbe più sembrarti esagerata l'affermazione fatta all'inizio meglio un monitor economico ma ben calibrato pochi colori ma quelli giusti piuttosto che uno che magari copre uno spazio colore vastissimo ma non è calibrato e dunque i colori sono a caso quando vai a scegliere un monitor per fotografia o videomaking gli aspetti da tenere in considerazione sono tanti uno fondamentale è quello di lasciarsi budget per acquistare una sonda di calibrazione ma ce ne sono svariati altri t'ho spiegato tutto nel dettaglio in un video te lo linko qui accanto fai clic per guardarlo io ti ringrazio anche a nome di sal per aver guardato questo video dammi una mano col canale condividi queste informazioni questo video metti un bel like iscriviti o abbonati al canale lascia un commento ma soprattutto ricordati non smettere mai di imparare ci vediamo nel prossimo video